A proposito di scuola e del rapporto con il mondo del lavoro, domani mattina la Camera di Commercio di Torino annuncerà i vincitori del premio Storie di Alternanze e Competenze. È un'iniziativa che ha come obiettivo quello di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza scuola-lavoro sottolineando le esperienze e le competenze acquisite appunto. I ragazzi, lo vedete, hanno realizzato dei video che raccontano le loro esperienze su moltissime tematiche. domani verranno annunciati i vincitori.